Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica le prime impressioni su il free to play tron and liberty, un action rpg maio dall'enorme potenziale prodotto da mazo games e sviluppato da nc soft lingua purtroppo in inglese quindi per il momento niente sottotitoli in italiano speriamo che vengano inclusi in futuro disponibile in versione digitale ovviamente per pc playstation 5 xbox serie xs ovviamente senza nessun costo visto che si tratta di un mmo action rpg free to play su poter 4k si parliamo un po' della trama il giocatore parte dalla ricerca di frammenti della stella di xion e deve combattere contro una minaccia che sta devastando il suo mondo mi fermo qui perché sennò faccio spoiler previ invece dall'aspetto tecnico il gioco è mosso dal motore grafico area engine 5 offre abitazioni varie dettagliate con un framerate abbastanza stabile si oddio io ho notato alcuni piccoli bug grafici ma ovviamente nulla di grave poi vabbè questi tipo di giochi gratuiti man mano vengono migliorati vengono sempre messe dalle nuove patch per migliorare il tutto per quanto riguarda i desideri personaggi e dei nemici abbastanza vario sono dettagliati con animazioni fluide buono il comparto sonoro con musica tema ben implementate e ovviamente un doppiaggio in inglese ben fatto purtroppo ovviamente per chi magari non sa masticare l'inglese e c'è anche la lingua giapponese in questo gioco purtroppo la mancanza dei sottotitoli in italiano rende un po' complicato seguire la trama perché senza non dico il doppiaggio ma senza i sottotitoli in italiano si fa un po' fatica a capire alcune cose anche perché se uno dice vabbè attivo i sottotitoli ma ora che traduco tutto insomma hai voglia allora cosa abbiamo provato? allora il gioco come ho detto prima provandolo mi ha fatto venire in mente alcuni titoli ma ha fatto venire in mente Dragon Age, Diablo, Baldur's Gate e anche Final Fantasy 7 Remake per quanto riguarda il gameplay insomma è un action RPG dall'enorme potenziale dipende tutto dagli sviluppatori come andranno a evolvere il gioco il giocatore prima di iniziare la sua avventura alla ricerca di quei cristalli ovviamente deve creare il proprio personaggio maschio o femmina attraverso un editor abbastanza semplice poi una volta creato ecco qui che parte la sua avventura il gameplay risulta essere immediato, tattico, divertente e anche molto tecnico abbiamo molte abilità, abbiamo la possibilità di usare armi corpo a corpo l'arco per colpire i nemici dalla distanza e poi infine anche le magie ovviamente queste abilità vanno utilizzate con molta strategia perché la loro ricarica richiede tempo per essere ancora riutilizzate queste abilità i nemici sono abbastanza aggressivi specialmente i mini boss e i boss di fine livello quindi bisogna cercare di usare al meglio le proprie abilità una volta superato le missioni e sconfitti i nemici ovviamente il nostro personaggio crescerà di livello aumentando la sua efficacia poi c'è anche come sempre in questi giochi un'altra caratteristica che nel gioco possiamo affrontare i nemici e anche le missioni in modalità cooperativa con altri giocatori un'altra cosa che mi è piaciuta durante l'esplorazione dell'abitazione e ovviamente durante alcuni fasi dell'avventura si può trasformare in una sorta di animale per poter esplorare più velocemente l'abitazione di gioco poi vabbè ci sarà anche il viaggio rapido e via dicendo per muoversi nella mappa allora piccole considerazioni quindi il gioco mi sta piacendo nonostante tutto alcuni bug e la mancanza dei sottotitoli in italiano che spero che venga introdotta in futuro una cosa che ovviamente rimane sempre nel punto di domanda è il contenuti post lancio ovviamente questo gioco per rimanere in piedi essendo un gioco online devi mettere sempre più contenuti magari mettere nuove storie, nuove trame, nuove missioni insomma bisogna vedere come andrà a evolversi per quanto riguarda se lo consiglio oppure no di provarlo io dico di sì perché alla fine è un titolo gratis e provarlo ovviamente non costa nulla bene ragazzi questa è la fine delle prime impressioni su Tron of the Liberty spero che vi sia piaciuto e che voi se lo state provando fatemelo sapere sotto nei commenti la vostra opinione se vi sta piacendo oppure no cosa magari vorreste che venisse migliorato e noi ci vediamo alla prossima se volete i link in descrizione ci sono i negozi consigliati Game Start e Nerd Gravity e se volete fare una piccola donazione, adozione cannelli di Citiglio e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti, bye bye ciao a tutti ciao a tutti